Buongiorno a tutti, stamattina ci troviamo al showroom in the moon con Elaria e Federica, nostri beauty specialist. Ascoltiamone un attimo, che cose ci propongono per quest'estate? Ciao ragazze! Ciao! Allora Elaria, hai visto che fantastica sinergia tra le nostre coloratissime creme e i nostri smarty? Assolutamente sì, non ho fatto altro che scegliere la nostra collezione yacht e applicarle sulle mie unghie. Bellissimo questo insieme di colori, sulle pagine di giornali voglia è molto di tendenza. Certo, di tu invece? Io invece non ho fatto altro che scegliere l'azzurro carta da zucchero che trovo estremamente elegante sulle linee di questa linea. Molto bello e raffinato, complimenti. E le mie ti piacciono? Bellissime, le trovo in ottima sinergia invece con la nostra crema con granel. Certo, da consigliare ovviamente alle nostre clienti, anche in abbinato. Bellissimo. Insomma, non facciamo altro che augurarvi una fresca estate come le nostre coloratissime collezioni. Un bacio e buone vacanze. Ciao!